io sono pratico si scuola scuola a San Piazza quando venivano a dire no ai 10 vieni a me e mi sono andato a fare un'interazione a me io ero ancora che trovavo dentro del titolo ero visto passare i suoi vinti i nuovi vinti ieri i vinti di realtà e quella forte e quella forte di Nava verso zero sul bordo di Piazza dove mi metto la casetta io mi sono in bicicletta e io partì per arrivare forte per arrivare e io ero unificio a casa a Gagliato a Gagliato ieri 4 però cosa succede che a mattina Gagliato e Foro Marche che altro che era dentro doveva andare a fare un'altra cosa di carro e io ero in grado e qua con l'amore che ero in grado e li hai dimmita quando mi sono andato a casa vedendo il pozo perché su piedi morti e chi te l'ipaia che viene del monumento io ero in grado di Caffè e io ieri e lui ha detto io fai un po' occupare tutti, mi fai un po' occupare tutti, ma si assombrano, io parlo, io qui li ho vittuto, io scampai ora, due scampai su tutta sera, giù e un nabò, giù e un nabò scampai su tutta sera, e che altri due scampai da circa la nostra qua, che era un ponte di guerra, 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 se la fai due, non so se insegnare il ponte di guerra, no. Quando chissà di dire che qui era un ponte di mitra, qui era una panorrafica di mitra, che era la risposta parlando che era, e le che è attablo, e come si ce che dice, non, es expensive, io lo cissara e mi non si può essere sotto acqua, non si è giusto e qui ci faccio e io andavo a fare un po' di ponte che si è giusto sotto la sierra però prima io gli ho un scuadato che è di me e io gli ho un scuadato io ho portato fuori prima e io non ho trovato la casa del burginho e io gli ho copato io gli ho spettato, io gli ho avocato io gli ho copato io gli ho venuto io gli ho avuto io gli ho avuto sul campo del burginho che erano due femmini che si è giusto a cucina del barrio e non aveva piantato il gioco e io gli ho detto e io gli ho detto no, io gli ho detto che erano due femmini e io gli ho detto fra il tempo mia mamma è famosa veniva a casa del dottor e io gli ho detto qua questo mercadello che io io gli ho detto questi femmini chiamavano a mia mamma chiamavano che è kommen mi ha detto erano e dopo di femmini rinvano anche la nostra a piedi e volete, cosa fanno? dopo io vi un po' che stico qui, io a compara e fanno quella attacare il carro al Poromarco, il 20 è e io fanno quella che arrivava qui e io fanno quella che arrivava qui e arrivava fuori, frazava che vien da galeazzo che vien fuori a guardare il turismo ecco l'altro e io stai a lei, stai a lei, stai a Sambuè andando a Sambuè vanno fuori a Sambuè che era il Poro Bragato e io pagasse l'orto Bragato e io ho detto cosa ha fatto? e io sono detto che pagava l'orto via via e lo tirano e io ho portato Sambuè e io ho portato il Capiteo da parte della roba e io ho portato e io ho fatto fare la parteciuta e io ho detto, è ventanto che mani ha riportato la roba di si fa e io ho detto a ti qua, no a ti do e io ho detto e io ho detto, vieni a qui e io ho detto e 4 euro per qui e io ho detto, vieni a che vieni da Bragato con il cartone mentriù vieni a che so, vieni a Sambuè che è un Capiteo finale era una seda la Sambuè è un caradone però era una seda e finale e io ho detto, vieni a mandare i carri a Sambuè e io ho detto, vieni a che vieni da Bragato subito, vieni a che vieni da Bragato morto e poi Marco scappa su pozzo e io ho detto, vieni a tirare su e io ho detto, vieni a che vieni a tirare Marco, vieni a tirare il Capiteo è super morto e lui ha detto, e lui ha detto e lui ha detto, grazie a Morato ah è morto 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 e lui ha detto nel secolo è morto e allora è uno di loro dove che ci fosse, e questo è il mio cabello la casa ah? e dove ha detto noi ancora dobbiamo ha detto parlando di turismo Cosa succede? Che a casa non era fatta, era fatta in due, due e due, capito? Sì, anche adesso è un po'. Sì, come era fatta? Come era fatta? Cosa succede? Io ho arrivato fuoco qui e qua. Ah, qui verso la strada? Verso casa sua? Beh, è che fa fuoco, non si dice fa fuoco. Tu ti stai dicando, vedi il tuo fuoco qua su, non su, non su. Dopo ci siamo mai stai lì di fuoco, anche da quel patto. E lo so, non si sa più che è. Però a casa nessuno era nato, non è nato. E io ero fuoco, fuoco il fuoco, fuoco il fuoco il fuoco. Fuoco il fuoco il fuoco, fuoco il fuoco il fuoco, dormia, sottacciava, dormia qua. Però io, cosa aveva fatto? Cosa ho parlato? Io ho partito da un giusto del quarto, da un giusto, da un giusto, da un giusto e da un giusto. E io stavo a fare quel quarto. E io quando avevo pregato, io quando avevo. E io stavo a fare quel giusto. tagliando la metà e che li caggiavano e poi caggiavano a casa lì poi li chiedi tagliato dopo mezzo a casa stavano usati qui a mezzo a casa non si è riuscito a saltarmi ma chi dice che andava? tu non andava, io ti sarei giocato io avevo paura a tutti piove la persona, piove e piove ora, Mario e Pato, il suo padre e due cugini e tre il mio è davanti per qua perchè da voi Pato mi pare che i guanti in fuori a Peori no perchè era il mio padre lei si è discorso di dove non mi torna a te erano davanti per me qua era il paracaro qua era un paracaro di marmo che era il confine per la caliscia un cippo di confine? calisciando tre dito e tre erano davanti per me come erano davanti per me erano avanti per me questi i tuoi quando sono altra cosa non mi sono mai morti se non mi ricordo, se non mi trovo un po' che altro più ampio, che stai con i bracci che ho fatto matoma, la mia braccia qua, e se non mi ricordo di chiamare l'homeno. Come hai dimesso questi due morti? Io ero intero con i bracci per qua, con la faccia per qua, con il papà no per qua, a imparare la ciladria, con i bracci che stai con i guardi, il che altro per tutto. Prima che era il zio qua, perchè il zio lo preoccupava, il zio lo preoccupava prima, perchè si chiamava zio, e lo chiamava zio, zio, zio. E come fai a sapere io che chiamava zio? Io li ho detto a lui che non chiamava zio, no, qui chiamava zio no. E che altro non sta buono in su, che altro che non lo chiede là, che lo chiede su no, che lo chiede io che chiamava zio. E che altri partigiani che erano insieme li ha fatto ora scampare? Qui ci sono poi davanti in un'antica. Ah, in fianco a casa vostra? Sì, perchè in fondo... Così per l'azio campi, in fianco a casa vostra, gli ho contegnato il ponte seco che mi ha detto, gli erano addirittura un ponte, e ci siamo messi a vedere qua a mitra che ha sparato una metraglia, che ha sparato la metraglia, che ha sparato la risposta dove si trovava. E dopo gli partiti, passate i comuni. Ah, e che ha fatto una sparatoria, i partigiani? Sì, che mia mamma si va a casa qua a Mufra, là, è una sparatoria, qui mitra. E io ero in due. Sì, i due che si scampai. I due che si scampai? I due che si scampai? Sparati contro il brigate Nere. Sparati in aria, sparati e risposta che il padre si trovava cadito, no? E poi lui si partì, no? Capito che si ricorro? Che ha fatto in aria, no? In aria non può cadere. Ma il tutto va a durare un'oretta, mezz'ora? Certo, ma quando si faci una maestra è la mia dita, una maestra è la mia dita, perché si sono gli scampai e si metiamo dentro, almeno in casa è che non è caro più vivendo. Maestra, sono partito. Ma partito da scuola, c'è una prima casa che aveva in grande, aveva le pate, aveva l'aria dita, e ci siamo arrivati a metrare, però le campagne entro l'aria. Dopo comunque sono partito di scuola ancora, e ho i 300 metri o 300 metri, e mi sono nato casa, e i 40 anni in casa, e dopo lì siamo stati chiusi a chiedere le femmine, perché le femmine vediamo il cuore ma nessuno sapevamo l'està siamo chiusi a chiedere la sera, se non mi trovi la sera, siamo chiusi a chiedere la mia mia cugina che lì in America aveva famiglia e altri cugini che sono morti ho capito, ricapito tema, prima di tutto io passai, io vi riscrivete sì, direte che io passai davanti a scuola di San Giallo davanti al cibo del monumento che era la Sarva, qui era un ponte della Sarva e ora io ho messo il bicicletto dove? io ho partito subito per arrivare io ho messo dentro una casa no no no, ho partito subito per arrivare partito inizialmente io ho dormito la mia notte e poi io ho partito e io ho trovato i partiti acqua io ho partito i anni, io ero da fuori io ho sentito arriva io ho detto fermi, io ero fuori, io ero fuori da casa io ho capito che era qualcosa io ho ristato acqua mentre le fece ma io li ho visti i anni non li hanno visti? no li ho visti però quando li ho fatto la mitra le fecelli tutti a metà non li ho fregati tutti hai capito di cosa? ah quindi non li hanno sparato? no perché non li hanno sparato? no perché non li hanno sparato? perché li hanno scampato? allora dove scampano? io c'era io non ho e che dove scampano quei campi e li fuori davanti che la nostra e io sono il ponte della e lei li ha sparato in aria la fai insegnare ai suoi amici che i suoi amici che i suoi amici era il ponte o no? questo è stato il ponte e dopo i suoi amici si partì e i suoi amici si partì